La nuova amministrazione provinciale guidata da Matteo Rossi mette tra le priorità del suo programma le fragilità sociali e ad un mese dall'insediamento presenta nuovi progetti di politica attiva del lavoro. Per la loro realizzazione la regione ha approvato la proposta della provincia per il riutilizzo delle risorse residue dell'atto negoziale, fondi che vengono assegnati all'ente bergamasco. All'inizio del mio mandato un mese e mezzo fa ho detto che sul lavoro, sui giovani e sulle pari opportunità c'era un impegno particolare da parte della nostra amministrazione provinciale. Oggi siamo contenti di annunciare che mettiamo a disposizione circa 560 mila euro per tre progetti. Il primo punta all'inserimento lavorativo dei cosiddetti giovani NIT, coloro che non studiano e che non lavorano e che noi vogliamo valorizzare promuovendo il loro inserimento lavorativo. Il secondo è un progetto che riguarda le pari opportunità, quindi le possibilità di lavorare con le aziende per promuovere azioni di welfare aziendale, di conciliazione casa lavoro, di inserimento dei figli, dei lavoratori in alcuni servizi educativi. Il terzo è un progetto che riguarda quei lavoratori che sono stati espulsi o stanno per essere espulsi purtroppo dal mercato del lavoro e mira alla loro riqualificazione e ancora una volta al tentativo di ricollocare sul mercato del lavoro. Gli interventi verranno promossi attraverso avvisi pubblici. Il progetto che riguarda i giovani prevede azioni di rete per agevolare il raccordo tra il sistema lavoro, il sistema pubblico locale e il sistema dell'istruzione e della formazione. Tra le azioni previste ci sono interventi di facilitazione all'incontro domanda offerta, supporto all'inserimento lavorativo tirocini. L'iniziativa è sostenuta da risorse pari a 159.494 euro. Per le pari opportunità ci sono a disposizione 175.000 euro. La proposta prevede il sostegno di iniziative e di progetti promossi da aziende del territorio anche in rete con le istituzioni pubbliche locali, ad esempio l'accesso ai servizi socioeducativi per l'infanzia e di cura di familiari attraverso l'erogazione di benefici ai lavoratori da parte delle imprese o un utilizzo più congruo e accessibile dello strumento dei congedi parentali. Infine il rifinanziamento dell'avviso pubblico per la riqualificazione professionale dei lavoratori, intervento sostenuto con 222.578 euro, potranno presentare progetti gli enti accreditati alla formazione che hanno sede in provincia di Bergamo. Queste sono le priorità per noi insieme alle fragilità ambientali quindi agli interventi sul dissesto ideologico che oggi presenteremo in bilancio, le fragilità sociali, giovani, lavoro, il ruolo delle donne, le pari opportunità hanno un'attenzione particolare da parte del presidente e dell'intera provincia e l'abbiamo dimostrato con questi progetti e con queste risorse.